Con questo meraviglioso fiore desidero ringraziare tutte quelle comunità e associazioni di solidarietà che hanno voluto sostenere il mio sforzo per far conoscere i miei video, soprattutto assurda disumanità, diffonderlo e allora con questo fiore, questa spiga che è accanto perché possano fiorire quanto più le serve per aiutare altri e ringrazio dal profondo del mio cuore. Grazie a tutti.